Ogni 21 novembre nelle principali città italiane si celebra e si festeggia la giornata nazionale degli alberi con lo scopo di diffondere il rispetto e l'amore per la natura e per la difesa degli alberi. Anche nella città di Fano nelle precedenti annate questo appuntamento si rinnova interrando delle piccole piantine a seconda dei nuovi nati nell'ultimo anno. A partecipare inoltre sono i bambini delle scuole locali che muniti di paletta e guanti scavano nel terreno e inseriscono varie tipologie di arbusti. Nel novembre 2019 in un campo nella zona di Treponti a Fano amministrazione e scuole hanno messo a dimora più di 300 piccoli alberelli con l'intento di lasciare questo piccolo spazio verde aperto a tutti, essere frequentato e visitato in tranquillità. Ma niente di tutto questo, a distanza di soli tre anni quella stessa porzione di terreno è ormai lasciata all'abbandono tra erba alta e incuria ma soprattutto con le 365 piantine e arbusti in fin di vita se non già morte. Che dire poi dell'area di via dei Tamerici, anche qui nel 2020 furono piantate sempre dal comune ben 400 specie di piccole alberature in occasione della festa degli alberi. Avranno resistito? Le foto parlano da sole. Bisogna dire che in entrambi i casi non tutte le piante sono in fin di vita, solo una piccola percentuale, ovvero le più forti, hanno tenuto crescendo e facendo spuntare le prime foglie. Altre segnalazioni ci arrivano da via Flaminia nella zona della nuova rotatoria di fronte ai vigili del fuoco. Nell'area di terreno a fianco l'autostrada, querce, olmi, cipressi, aceri, frassini, piantate da pavimental nel piano di riforestazione relativo alle opere compensative non hanno resistito alle cocenti giornate estive e alle gelate degli ultimi anni, come anche quelle piantate a fianco il metauro in zona tombaccia. Infine, l'ultima foto che ci arriva è quella di Sant'Orso, nell'area che costeggia il parco della superstrada di Fano. Una lunga fila di siepi d'alloro anche qui in secca. A questo punto, si legge nel messaggio del segnalatore, noi cittadini ci chiediamo qual è lo scopo di queste iniziative di riforestazione se poi non si segue il ciclo della pianta? Perché vantarsi di piantare alberi se poi vengono lasciati abbandonati e nessuno se ne prende più cura?